Su acqua e rifiuti è giunto il momento dell'operazione Verità. Di questa idea è la CGL Agrigentina che ritiene necessario fare chiarezza sui costi elevati delle relative fatture. Intanto si è insediato formalmente il Dipartimento Territorio Ambiente diretto da Enzo Iacono. L'articolazione interna della CGL Agrigentina si occuperà di affiancare il lavoro della Segreteria con specifico riferimento alle materie di acqua, rifiuti e problematiche ambientali. Il gruppo di lavoro originario sarà arricchito nelle prossime settimane da porti che arriveranno dai comitati degli iscritti che verranno costituiti nei vari comuni della nostra provincia. L'incontro è servito per una panoramica generale sulle questioni aperte e sulle tematiche anche alla luce delle novità legislative. La CGL ritiene che sia giunto il momento che su acqua e rifiuti si possa arrivare ad un'operazione Verità per comprendere e rendere chiaro a tutti come si arriva a fatturazioni essosissime. Analizzare ogni singolo aspetto per capire dove e come si sprecano tante risorse e soprattutto come arrivare ad una gestione equa e sostenibile del sistema integrato delle acque e dei rifiuti. Su questi temi la CGL insieme alla Funzione Pubblica e alla Feder Consumatori organizzeranno nelle prossime settimane momenti di confronto pubblico anche con soggetti della società civile organizzata in comitati civici. La CGL ha preso atto con preoccupazione ed amarezza della decisione del Governo regionale di utilizzare la discarica di Siculiana quale luogo dove ospitare i rifiuti dell'ennesima crisi di Bellolampo. La CGL non esita a definire scandaloso il modo di affrontare la questione rifiuti in Sicilia e questo vivere in perenne emergenza. Da qui la preoccupazione sia dei disagi che questo comporta sia della possibile saturazione della discarica di Siculiana che costringerebbe ad un'emigrazione dei rifiuti con costi che graveranno sulla collettività agrigentina.